Noi siamo sempre attenti perché il tema va gestito con attenzione, si tratta di persone, di famiglie e quindi con la massima responsabilità si è gestito il problema, senza annunci, senza promesse come un percorso che deve garantire una tenuta dell'industrializzazione del sito. Credo che sia fondamentale per evitare di vedere casi come quelli che abbiamo già vissuto su altri siti dei passati governi dove giocano con gli annunci e poi magari l'industrializzazione fallisce e portano via macchinari, quindi credo che sia importante. Oggi inizia la fase del governo, con Conte vi aspettate un cambio di atteggiamento da parte del PD o d'Italia Viva alla luce dei risultati regionali? Non lo so, io spero che tutti lavorino per gli interessi italiani, poi inizierà una discussione, vediamo, nel parere si parli di temi concreti e non di spot.